Però se vogliamo combattere una battaglia insieme, senza imporre niente a nessuno, una piattaforma comune ci vuole. E faccio un esempio, perché non sto qua a dire quello subito, siamo d'accordo perché sarebbe banale. Sul fatto che Marino sia una calamità naturale, più stare negli Stati Uniti, meglio essere uscito, siamo d'accordo, grazie.